Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 in calo ad un chilometro la coda per incidente tra B1 Variante e Aglio in direzione nord. Possibili disagi inoltre per presenza di veicolo fermo o in avaria sempre verso nord tra Valdichiana e Monte San Savino. Nel minore oltre controllo della velocità in corso tra Firenze e Scandici e B1 11 per chi viaggia verso nord. Infibili possibili disagi per presenza di personale su strada tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Uno sguardo al traffico aereo il volo Firenze-Lisbona delle 12.10 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 12.40. E prima di salutarci per il traffico navale il traghetto Piombino-Cavo delle 12.20 quest'oggi è cancellato per maltempo. Non si escludono ulteriori cancellazioni. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.